Buongiorno da mattino 6 per questo mercoledì 28 dicembre. Oggi si ricordano i santi innocenti martiri. Iniziamo a leggere i titoli di apertura del centro nell'edizione dedicata a Pescara. Opere pubbliche incompiute da Abruzzo inchiesta del centro. Nessuno ne conosce il numero, nessuno sa quanto sono costate. E poi all'interno la crisi delle banche, il salvataggio Montepaschi di Siena costa 6,5 miliardi. Mamma Gela, velena le figlie, poi tenta di uccidersi. 50 mila euro per i vitalizi spunta l'ipotesi del rimborso. I messaggi e candele per Fabrizia, l'omaggio di Sulmona per la giovane uccisa nella strage di Berlino. Nelle cronache Pescara allarme smog scattano i limiti ai riscaldamenti. Montesilvano muore a 28 anni all'improvviso dopo la tombola. Sempre Montesilvano nel 2016 multati, lucciole e clienti per 35 mila euro. Di taglio basso il calcio, il Pescara torna al lavoro venerdì, bianca azzurro, vacanze all'estero tra le metri preferite, Maldive, New York e Londra. Il riconoscimento Nicolai lo sportivo abruzzese dell'anno. Di taglio alto la maratona sui conti, sulla manovra di bilancio e scontro in regione. L'inchiesta Consipil Ministro Lotti respinge le accuse, non ne sapevo nulla. Sempre sulle pagine del centro l'edizione dedicata a Chieti, il CSM ha scelto e testa il procuratore. E poi Pollutri e Vasto buco nel muro per rubare carne e salami. A Lanciano rivoluzione ZTL, 6 mila pass buoni fino a primavera. Sempre Chieti, l'università perde studenti. In cinque anni l'adannunzio fa segnare un meno 5.702. Andiamo avanti, l'edizione dedicata a Terramo, il terremoto, casi inagibili, sgomberate altre 161 famiglie. L'ospedale di Terramo muore per una caduta, sai medici sotto inchiesta. L'indagine è overdose letale, droga venduta a Martinsicuro. E poi dopo il no di Terramo, i soldi della funivia Roseto, Casa Civica propone un collegamento con Montepagano. L'edizione dedicata all'Aquila, fontana luminosa, ecco le telecamere. E poi la ricostruzione d'Alfonso, pratica e sisma, trattate a Fossa. Avezzano, vigilante beffato dai ladri, giudice lo riassume. Un incontro in Vaticano, il Papa abbraccia chi persi i figli, delegazioni di Avezzano, all'udienza con l'Associazione Genitori. Vediamo i titoli di apertura del messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Sisma, Maxi Sgombero a Terramo, il sindaco Brucchi firma a sorpresa 161 ordinanze, dramma di capodanno per 500 sfollati, non lasceremo le nostre case. Il caro affitti per sfruttare l'emergenza, indaga la finanza. Altri danni, scuole da ricostruire, l'elenco a Derrani. E poi Fabrizia, il jacquise del vescovo apre il fronte giovani. Tre laureati su dieci lasciano l'Abruzzo, si mobilitano industriali e università. A centropagina, Pescara, nuovi blocchi anti-attentati per San Silvestro, piazza Salotto isolata dalle barriere. L'Aquila, neve artificiale, aperte le piste. Di spalla il bilancio in aula, D'Ignazio, del nuovo centrodestra, sostiene la maggioranza. Assenti Gerosolimo, Sclocco e Olivieri. Voti decisivi per i primi atti. Di taglio alto le eccellenze, professoressa Di Lanciano, tra i 50 migliori docenti d'Italia. Il personaggio, l'attrice aquilana Elena Floris dal bar Farfarello all'Odin Theater. Serie A, Pescara, si complica il ritorno di Mandragora. Vediamo i titoli di apertura del quotidiano La Città. Terremoto, esodo da Colle Atterrato. Notificate le prime ordinanze del Maxi Sgombero atteso prima di Natale. 350 inquilini fuori dalle case popolari. A centropagina, Roseto, Montepagano vuole il progetto bocciato a Teramo, la guerra della funivia. Denunciati due pirati della strada, provocano tre feriti e scappano, ma la polizia li rintraccia. Di spalla il giallo di Tortoreto, si cerca anche nella vita segreta di Di Silvestre. Il mistero ladro di gatti al cimitero di Giulianova. Di taglio alto la richiesta di Teramo al tavolo della regione. Servono subito due nuove scuole materne. E poi il bilancio del sindaco abbiamo già cambiato volto a Roseto. Ora invece vediamo quelli che sono i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera. Fondi sufficienti per Monte dei Paschi di Siena. Credito dopo l'intervento della BCE sull'aumento a gennaio il nuovo piano di ristrutturazione. Il tesoro dice garantite tutte le banche patuelli dell'ABI, dice il nostro sistema, è solido. E poi il killer l'allarme è inviato in Italia. Berlino avvertì più di sette mesi fa fermate Amri. Questa è la foto che lo ritrae alla stazione di Milano. Martina dice voucher vietati per l'edilizia solo a studenti e pensionati. La Repubblica apre con MPS e governo contro la BCE. Replica alle critiche europee. 20 miliardi bastano per sostenere le banche. Il braccio di ferro tra Gentiloni e Padoan sulle agevolazioni fiscali ad alcuni istituti. E poi sottosegretari Verdini resta fuori. L'apertura del fatto quotidiano, lo sprofondo rosso dopo la richiesta della BCE da 8,8 miliardi rischio bomba sui conti. Montepaschi a furia di rinvia, adesso la troica è più vicina. E poi il gemellaggio, il traffico di migranti, prostituzione spaccio, la mafia, un nuovo alleato, i clan nigeriani. Il messaggero titola MPS tesoro in pressing sulla BCE. Il ministero, la banca centrale, riveda la sua richiesta di aumento di capitale da 8,8 miliardi. Irritazione a Palazzo Chigi, non trattateci come la Grecia. Il fondo salva banche è sufficiente. E poi dopo la fuga di Amrì, intensificati i controlli nei centri, terrorismo piano del Viminale, riapre i CIE per i clandestini. Di spalla a Roma servono anni per farla ripartire. Dialogo con il governo. L'intervista, il neo-assessore Colomban dice Corraggi, differenza di età e di analisi. Il giornale, sotto torchio l'uomo di Renzi, lotti interrogato dai PM. Appalti e segreti, il ministro è indagato. Dopo Etruria, altro colpo al giglio magico. Ciaone alle riforme di Matteo rischia anche il Jobs Act. E poi le banche servono 50 miliardi e un'inchiesta sulle colpe. L'intervista a Zingales sul caso MPS. La stampa Bolore può paralizzare Mediaset. Intervista con il ministro. Intervento MPS in regola con l'Europa. Cruciale ruolo di Intesa San Paolo. Adesso avanti con gli investimenti. Calenda dice operazione non trasparente. Articolo 18 la consulta verso il no al referendum. Il manifesto dice cuffiette rotte. I licenziati, il ben servito di Almaviva arriva mentre era in corso il referendum sull'accordo firmato al Ministero dello Sviluppo Economico. Il 55% dei 1666 lavoratori del call center di Roma accetta il taglio dei salari e il controllo a distanza. Ma ora sarà l'azienda a decidere se riaprire le trattative. E poi la ricapitalizzazione sotto dettatura della BCE. Monte dei Paschi di Siena. Intervento statale in ritardo. Il Tempo. Malati di farmaci. Dossie shock. Nel Lazio in otto mesi sforato di 200 milioni il tetto previsto dal Ministero. E nei pronto soccorso ferma un'ambulanza su due le barelle usate per i malati in corsia. Ora i politici sanno quanto soffriamo. Dieci parlamentari si trasferiscono ad Amatrice. Il sindaco Pirozzi ha il tempo. Dice non abbassiamo la guardia. Il mattino titola Sanità. Campania bocciata. Le pagelle del Ministero del 2016. Ultima in Italia. Peggiorano tutti i servizi. Il disastroso bilancio di un commissariamento durato nove anni. Asle ospedali al minimo storico. E poi l'Italia replica le critiche della BCE. Il tesoro banche bastano 20 miliardi. Lo Stato acquisterà il 70 per cento di Monte dei Paschi di Siena. L'unità che fine faranno i voucher verifica sui nuovi obblighi di tracciabilità torna all'utilizzo solo per prestazioni occasionali. Possibile divieto in alcuni settori come l'edilizia e la pubblica amministrazione. Legge elettorale. Il Partito Democratico stringe i tempi. Basta Melina. Libero De Benedetti. Marce Gaia in co. MPS. Regalava soldi ai ricchi e salvarlo costa 250 euro a famiglia. Tutti i finanziamenti allegri della banca del PD che non torneranno mai indietro. L'Unione Europea si accanisce contro Siena e grazie a Deutsche Bank. In rosso ma può dare bonus. E poi il braccio destro di Renzi indagato per fuga di notizie lo assiste Coppi. Lotti due ore dai PM con l'avvocato di Silvio. La gazzetta del Mezzogiorno grumola rissa per il boss. Il sindaco un parroco incompatibile. Difende l'azienda del fratello, la famiglia del prete e risponde ma che interessi. Così finisce a carte bollate. E poi il salvataggio Monte dei Paschi di Siena botta in risposta tra Italia e BCE. Caso Consip interrogato il ministro Lotti e dice dell'inchiesta non ero a conoscenza. Il gazzettino ancora economia salvataggio Monte dei Paschi di Siena. La BCE alza il prezzo francoforte. L'aumento da 5,5 non basta. Ne servono 8,8. Il rilancio va completato entro il 2018. Il governo replica stanziati 20 miliardi. I soldi ci sono ma scatta la ricerca di un socio estero. E poi i troppi viaggi in Europa di Amri il killer è polemica sulla libertà di spostamento dell'attentatore di Berlino a Venezia turista. Di taglio alto sottomarina l'investitore non si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Il secolo XIX la consulta verso il no al referendum sul quesito principale. Ok agli altri. L'articolo 18 il voto è più lontano. Calenda dice Bollore può paralizzare Mediaset e Monte dei Paschi di Siena. Intervento in linea con l'Unione Europea. A centropagina la sicurezza come ci si prepara al veglione in piazza. Il piano di Genova. Il capodanno anomalo delle città blindate. E poi le indagini sulla strage. ecco il killer di Berlino in stazione a Milano. L'avvenire. Mosse americane. Il giapponese Abe con Obama per l'arbor. Alta tensione. Israele e Stati Uniti in attesa di Trump. Monte dei Paschi di Siena. Fondi sufficienti. Roma risponde alla BCE. La verità titola la dittatura della minoranza. La RAI dà lezioni a homosex nella fascia protetta. E poi Renzi si compra il voto. 50 mila euro a ogni deputato per avere elezioni anticipate. Buon'uscita pure i senatori in cambio della rinuncia al vitalizio che scatta a settembre. Ora ci spostiamo sulle pagine del centro. Iniziamo dalle pagine dedicate alle opere pubbliche e agli sprechi in Abruzzo. In compiute la regione non sa quante sono. Nel libro bianco ne conta 315 ma al Ministero ne comunica solo 33. Milioni di euro bloccati o impegnati per progetti mai completati come la scuola di legno di Montesilvano o il tunnel pedonale di Chieti. 4 comuni abruzzesi su 10 hanno dichiarato alla regione di avere uno o più strutture non completate nel proprio territorio ma il dato è sottostimato. Diverse le opere delle ASL realizzate solo parzialmente reparti materno-infantili, centri per gli anziani, distretti sanitari di base a Castilenti aspettano da tempo il nuovo cimitero. E' il dirigente della regione ma la legge limita il blocco totale. Primavera oggi i lavori si fanno solo per lotti funzionali. Le storie la metropolitana dell'Aquila ha 14 anni di lavori inutili doveva collegare l'ospedale al centro della città. Il tracciato non è mai stato completato e ora il comune vuole smantellarlo. La diga di Bisenti solo carte bollate, spropriate, 70 famiglie spesi 53 miliardi di vecchie lire e il progetto è archiviato. L'ultimo saluto, messaggi e candele ricordano Fabrizia l'omaggio di Sulmona alla giovane uccisa nell'attentato e spunta anche una scritta in arabo, dormi in pace. E in Germania i colleghi di lavoro lasciano ricordi e cantano canzoni nel mercatino della strage. L'inchiesta alla strage di Berlino a Murray era solo, si indaga sugli appoggi italiani. Nuovi tasselli sugli spostamenti del terrorista, il camionista polacco ucciso diverse ore prima dell'attentato, confermata la sosta a Bardonecchia dell'assassino, prima di partire verso Torino con destinazione Milano. Si scava negli ambienti radicali islamici dell'Interland del capoluogo Lombardo, anche se allo Stato non sarebbero emersi legami evidenti con persone a rischio. La crisi delle banche salvare Monte dei Paschi di Siena costa 6,5 miliardi. Il Ministero dell'Economia rassicura la BCE e dice il fondo stanziato è più che sufficiente. E poi la scheda sulla carta risparmiatori protetti, l'obiettivo coprire i 40 mila che hanno sottoscritto, obbligazioni in buona fede. Di spalla su Parma la topa totalitaria di Besnier. E poi la politica in odi, lotti interrogato a Roma, respinge l'accuse dei PM. Gli appalti della Consip, il neo ministro dello sport ascoltato in una località protetta, non conoscevo l'esistenza di indagini, mai avrei potuto rivelare segreti. Grillo attacca, dice una porcata, vitalizia i parlamentari e spunta l'ipotesi del rimborso. E poi Movimento 5 Stelle, la maratona, bilancio in Campidoglio sul comune di Roma grava la possibilità del commissariamento. Gela, avvelina le figlie e poi tenta di uccidersi Maria Sofia e Gaia di 9,7 anni costrette a bere candeggina, trovate dal papà. La mamma, insegnante precaria, soffriva di depressione. La tragedia è avvenuta ieri in casa. La stretta sui voucher per arginare gli abusi, il governo pronto a modificare il Jobs Act nella speranza di evitare il referendum. Si inizia da una verifica sulla tracciabilità dei buoni e infuria la polemica politica. Apriamo la pagina sulla nostra regione, il Consiglio regionale, il bilancio del 2017 tra scontri e polemiche sia al nuovo piano di rientro. L'operazione sul disavanzo pregresso da 770 milioni a seconda le indicazioni della Corte dei Conti. Accuse su 170 emendamenti cancellati e oggi si discuterà il bilancio. Ecco qua uno specchio realizzato dal centro su quelle che sono le stime delle voci principali dei conti proprio della nostra regione. E allora come detto oggi ci sarà la seconda giornata proprio di Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio. Ieri c'è stata la prima giornata di lavori. Allora vediamo. Sarà un bilancio di previsione, quello che sarà approvato oggi o al massimo domani all'emiciclo, che sconta la scarsità di risorse, i pesanti tagli di trasferimenti da parte del governo centrale, appesantito dalla zavorra dei 51 milioni di euro che serviranno ogni anno e fino al 2025 a coprire il disavanzo accumulato dagli anni di finanza allegre e sperperi messi a conto delle generazioni future. A dirlo con disincanto al nostro microfono anche Camillo D'Alessandro del PD, coordinatore della maggioranza. Questo è un bilancio di svolta, diciamo così. Dal prossimo anno le cose dovrebbero migliorare sulla base di alcuni fattori anche tecnici legati alla finanza pubblica e quindi avere più risorse. In aula l'opposizione di centrodestra promette di assumere un atteggiamento responsabile, ma non risparmia critica a un bilancio definito senza anima. E promette battaglia almeno su un punto la riduzione delle tasse regionali aumentata al massimo quando la sanità era commissariata. Non ridà ai cittadini ciò che gli è stato prelevato negli anni. Noi siamo stati commissariati e ci hanno imposto una tassazione la più alta d'Italia. Oggi siamo usciti dal commissariamento, credo che i conti siano abbastanza risanati, soprattutto grazie al governo precedente di centrodestra, ma la tassazione rimane sempre la più alta. Bocciatura della manovra anche da parte dell'opposizione del Movimento 5 Stelle. In commissione hanno bocciato le nostre ragionevoli proposte, protestano, e in aula arriveranno con 400 emendamenti. Parliamo di reddito minimo garantito. La proposta che è stata già precedentemente scritturata a mediante legge dal nostro collega mercante l'abbiamo riproposto come emendamento perché riteniamo che la disoccupazione sia salita alle stelle e ogni anno aumentano i disoccupati e gli occupati in Abruzzo. Quindi è necessario e doveroso un reddito minimo garantito per i tanti disoccupati. Abbiamo fatto proposte per finanziare la ristrutturazione delle case popolari, i fatiscenti che stanno crollando letteralmente, anche a questo hanno detto no. Ancora sulle pagine del centro si parla dell'azienda unico di trasporto abruzzese, la TUA assume 30 giovani autisti in agenda, altri 47. La società regionale di trasporto TUA SP ha assunto 30 giovani autisti dal 1 luglio 2015 e cioè dalla nascita dell'azienda unica. Oggi sono stati inseriti in forza all'organico aziendale 112 autisti. I numeri vengono snocciolati con soddisfazione dal presidente Luciano D'Amico che in una nota tira le somme e sottolinea come in pratica ogni 5 giorni venga assunto un operatore di esercizio. Tra ringiovanimento e ottimizzazione dei costi, TUA si prepara alle sfide future, aggiunge. E poi il caso agenzia regionale, l'ARIC, in due con lo stesso incarico. L'ex governatore Chiodi dice il commissario voluto da D'Alfonso è un doppione del DG. Due dirigenti con gli stessi compiti accade all'agenzia regionale di informatica e committenza dopo che la regione il 23 novembre scorso ha nominato il commissario straordinario Paolo Menduni. Secondo il presidente merito della regione Gianni Chiodi di Forza Italia, Menduni ha gli stessi incarichi che ricopre il direttore generale dello stesso ente dal 23 febbraio. E dice come è possibile pagare due persone per svolgere gli stessi compiti? Ci spostiamo a Pescara, ci sono i professori contro il governo. I docenti scendono in piazza e chiedono di insegnare al sud. Una manifestazione a Pescara dei Nastrini Rossi alla vigilia dell'incontro convocato al Ministero. Lanciato un appello per rivedere la buona scuola, vogliamo lavorare vicino alle città di residenza. Fra le richieste c'è quella di fare di nuovo domanda di mobilità e che venga garantito il diritto alle assegnazioni provvisorie. Hanno voluto realizzare un flash mob ieri per chiedere l'attenzione del governo il giorno prima dell'incontro con i sindacati, proprio per discutere della revisione di quelle che erano ovviamente le previsioni per la buona scuola. Tantissimi gli abruzzesi e anche i professori del centro-sud che sono stati trasferiti al nord e chiedono di poter tornare nelle loro regioni. Vediamo. Esistono insegnanti di serie 0 o di serie A che possono vantare il lusso di lavorare nella propria regione di residenza. E poi ci sono quelli di serie B e serie C che la riforma della buona scuola ha spedito al nord. Milano, Ferrara, Belluno, Modena, l'elenco è lungo. Un esercito di migliaia di persone che si sono ritrovate a lasciare le proprie famiglie e andare a lavorare lontano per uno stipendio che basta solo a pagarsi l'affitto nella nuova città e il biglietto per tornare a casa, ma non tutte le settimane. Noi siamo gli insegnanti del movimento dei nastrini rossi, siamo i docenti che sono stati assunti dalla buona scuola su base nazionale e poi mandati in mobilità nuovamente su base nazionale e in maniera obbligatoria. Quindi la maggior parte di tutti noi abbiamo delle sedi nel nord a centinaia e centinaia di chilometri di distanza e siamo un movimento che riunisce gli insegnanti dell'Abruzzo, della Puglia, della Campania, della Sicilia, Basilicata e Calabria perché questo è un problema che ha colpito soprattutto il centro-sud. Noi chiediamo che la nostra situazione venga definitivamente risolta perché abbiamo subito una grande ingiustizia, siamo l'unico gruppo di docenti che praticamente è andato su base nazionale ed è stato costretto a mobilità, quindi noi fondamentalmente chiediamo di poter tornare invece definitivamente a casa. Un flash mob diretto al governo che domani incontrerà i sindacati per ridiscutere le loro posizioni, tenendo bene a mente la vita che conducono le categorie B e C dal 2015 fino ad oggi. In Abruzzo siamo circa 400, i numeri però del sud sono enormemente più grandi, quindi tutti uniti diventiamo circa 25 mila. Uno, due, tre! Ancora sulle pagine del centro i danni dai cinghiali, modificate le regole, un sit-in degli allevatori agricoli davanti al Consiglio regionale e il nodo ora è sul pagamento forfettario. Oltre 100 agricoltori e allevatori abruzzesi si sono ritrovati ieri mattina davanti all'emiciclo all'Aquila per protestare contro i ritardi nel risarcimento da parte della regione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e il sit-in si è svolto mentre il Consigliere è impegnato nell'approvazione del bilancio di previsione 2017. Andiamo avanti, ancora sulle pagine del centro, andiamo a Pescara, c'è l'emergenza smog, polveri alte per 35 giorni, giro di vite sui termosifoni. Il Comune è pronto a limitare l'uso dei riscaldamenti per ridurre l'inquinamento. L'Arta ha scritto una lettera al Sindaco per avvertirlo che Via Sacco ha raggiunto il massimo di superamenti annui del PM10. E poi l'intesa sulla sostituzione delle caldaie gratis. Gli amministratori di condominio dicono sia il progetto per cambiare i vecchi impianti. E poi c'è l'esperto del traffico che dice subito gli autobus sulla strada parco. L'architetto di Gian Pietro, autore di uno studio per il Comune, dice liberare via Lebovio e Riviera dalle auto ora serve coraggio. L'arteria non deve ospitare solo la filovia, può accogliere altri mezzi. La ricetta giusta per potenziare in fretta il trasporto pubblico. Di taglio basso i comitati dicono sì ai mezzi ecologici. Quattro associazioni si appellano ad Alfonso. Copi l'esempio di Torino e Londra. Lavori pretesi e mai pagati è stato condannato il Comune, stangata da quasi 200 mila euro per la pulizia di strade e piazze risalenti al 1992. L'amministrazione risarcisce la COGEPI dopo 16 anni 100 mila euro solo di interessi. La misericordia schiera i droni per i soccorsi. L'associazione è presente i suoi progetti per l'anno nuovo. Si reclutano anche avvocati e commercialisti tra i volontari. E poi dal casino i fondi per l'orfanotrofio a Casa Marco, realizzata in Togo dalla Ollus di Martino. 16 mila euro e uno scooter offerto in beneficenza da Le Palme. Di spalla Sancetteo gremita per il concerto della filarmonica. Sempre a pescare il rifugio dei disperati, la casa della droga resta invenduta, inutile lo sgombero. Complesso preso di nuovo d'assalto dai tossicodipendenti, ora si studia l'ipotesi di una protezione con il filo spinato. Luca Cosentino nella prima asta, nessuno si è dimostrato interessato alla struttura che ha un valore di 4 milioni. Ora si punta sulla seconda vendita a un prezzo inferiore. E poi un nuovo servizio, un numero verde contro il disagio. L'assessore Allegrino dice ecco come poter segnalare le situazioni difficili. Sconterà a casa a 4 anni e mezzo, era l'incubo delle prostitute. Francavilla notificati domiciliari al 34enne, arrestato nel luglio del 2014 e poi condannato. Rapiva le giovani donne, le minacciava con una scacciacani e le violentava. Due le denunce. E poi due donne Rom, fermate dai carabinieri via Gran Sasso, sventato un furto in casa. Di Taglio Basso, Francavilla, un tour per favorire le donazioni. Premiato il Giramondo dell'Avis. Marco Cileo, 27 anni, torna a casa dopo aver percorso 2500 chilometri. Pianella, la circonvallazione non c'è più. Filippone contro Marinelli dice l'arteria è ridotta a una strada interna. La cronaca su Montesilvano, la lotta alla prostituzione, multe alluccio le clienti per oltre 35 mila euro. Rinnovata per il 2017 l'ordinanza che vieta le contrattazioni sessuali sulla strada. Diminuite le ragazze sanzionate, aumentati gli uomini. Salvate 11 giovani donne. E in particolare nella lotta alla prostituzione ci sono le cifre. Gli importi e le sanzioni dei clienti per il 2016 salgono a 20 mila euro. L'importo e le sanzioni per le prostitute sono 15 mila. I clienti multati nel complesso 44 e le prostitute invece 48. Di Taglio Basso, a pesca con la famiglia sul fiume inquinato. L'associazione Nuovo Saline denuncia bracconaggio e assenza di controlli sul corso d'acqua. Ed eccole qua le immagini che ritraggono proprio la pesca sul fiume inquinato. Malore durante la tombola. Una donna muore a 28 anni a Montesilvano il giorno di Natale. Elena Marini è stata colta da un improvviso e forte mal di testa. Il decesso è avvenuto in ospedale la sera di Santo Stefano. Di spalla, spoltore, feste senza petardi. Tardi, botti vietati, anche a spoltore ordinanza che andrà avanti fino al 7 gennaio. E poi non depotenziate l'ufficio delle disabilità. Le famiglie si uniscono all'appello del club Jamel contro le modifiche e le ipotesi di smembramento, sempre sulle cronache di Montesilvano. Servizi sociali rischio stop in 23 comuni. Salta la proroga al gestore, anziani e disabili della Val Pescara, senza assistenza dal 2 gennaio. A protestare sono 60 lavoratori. Sulla cronaca di Penne, Portella e Mallo, pronto il piano antifrane, approvato il progetto definitivo per risistemare le strade, ma servono altri 8 milioni per poter finire i lavori. E poi a manoppello nessun aumento dello stipendio. Il sindaco De Luca dice ripristinato solo il 30% delle indennità. Chieti, l'Ateneo ha un segno meno. L'adannunzio perde quasi 6 mila studenti. I numeri del MIUR bocciano l'università di Chieti Pescara. L'emorragia negli ultimi 5 anni il senatore accademico De Carolis mette sotto accusa rettore e DG. E poi il capo della procura a 45 anni. Il CSM sceglie testa, nuovo procuratore. L'ok del ministro Orlando e l'11 gennaio il via libera al plenum. La pagina di L'Aquila, la città che rinasce. Fontana, ecco le telecamere. Recensione, videosorveglianza dopo la riaccensione in seguito ai restauri. Di taglio basso il Natale a Roccaraso con il pugile Clemente Russo. Il due volte campione del mondo in vacanza con moglie e bimbe. Torneremo presto tra questi monti. Su Teramo, sanità sotto accusa muore in ospedale indagati 6 medici. La procura chiede una nuova consulenza sull'uomo dimesso dal pronto soccorso di Sant'Omero. E' deceduto a Teramo. E poi dispala l'iniziativa della CGL e la costituzione vista dai bambini nel calendario dei pensionati. Di taglio basso il terremoto sgomberate altre 161 famiglie. Ieri il comune di Teramo ha emesso 27 ordinanze coinvolte case popolari e un palazzo in centro. Noi ci fermiamo per una piccola pausa. Vi lasciamo con le previsioni meteo di Luca Mennella tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo sulle pagine del messaggero, quella dedicata all'Abruzzo. Una terra senza speranza, un dossier giovani dopo il jacuzzi di Spina, Monsignor Forte dice incanalare meglio le risorse, a parlare anche ballone degli industriali dice ci vuole tempo, Coccia risponde coraggio. Il caso le reazioni dopo il grido di dolore del vescovo di Sulmona durante il funerale di Fabrizia Di Lorenzo. E poi una stima tra i laureati su dieci lasciano la regione, ma non chiamiamoli cervelli in fuga. La pagina di Pescara è il Natale magro dei commercianti, luminarie, pista di ghiaccio e videomapping. Incorniciano un bilancio dello shopping ancora condizionato dalla crisi. Isola pedonale, parcheggio e severità dei vigili è sempre il tema della viabilità, a scatenare lo scontento della categoria. Per le iniziative dell'amministrazione dopo la maratona degli acquisti per le feste, in cantiere un ricorso al TAR contro la ZTL del fine settimana e l'entroterra preferisce gli Iper. E poi la stretta dei consumi, mega regali, addio, è l'ora del pensierino. Fino al 20% in calo degli affari, i negozianti aguzzano l'ingegno vestiti a domicilio e panettoni al posto dei gelati. E poi la dimenticanza, Piazza Unione resta al buio e spunta un cartello di protesta contro Cuzzi. Piazza Salotto sì, Piazza Garibaldi sì e Piazza Unione. E questo l'appello all'assessore, al commercio e ai grandi eventi, Giacomo Cuzzi. E poi un'auto contromano l'allarme intangenziale. Dopo l'asse attrezzato, anche la variante della Statale 16, si rivela il rischio per la possibilità di errori negli accessi. All'esame della polizia stradale, il filmato della Peugeot 208, che sbuca dallo svincolo aeroporto. Il guidatore rischia grosso. La nuova segnaletica non argina la serie di collisioni sfiorate e si fa strada all'ipotesi di un gioco folle per finire sui social. E poi le botte da orbi, una maxirissa, due gruppi si affrontano di fronte al delfino. Una coda violenta della lite scoppiata la sera di Natale a Pescara Vecchia. Tra i feriti in ospedale e a indagare è la polizia. Di taglio basso, il Don Orione disabili attori per un giorno, il tempo dei presepi. Spuntano le barriere antiattentati, sempre a Pescara blocchi di cemento gialli e fioriere rinforzate, posizionati nelle vie pedonali. Dalle 17 di sabato anche gli accessi principali di Piazza Salotto saranno protetti con i New Jersey. E poi in carcere, il terrore delle prostitute, quattro anni al violentatore seriale. La fine di un incubo, Daniele Marcheggiani, riconosciuto responsabile di tre aggressioni nella zona di San Silvestro. L'eroe dell'arma, Loreto vuole una caserma perdonato. La stazione dei carabinieri di Loreta Protin è stata trasferita a Moscuf a causa dei lavori di manutenzione della storica sede di Via Roma. Sarebbe una vera beffa per la città, l'auspicio è che si proceda subito ai lavori e una volta restaurata la caserma si è intitolata all'indimenticabile milite Donato Chiarelli. Nato in contrada, Ferrauto di Loreta Protino il 21 dicembre del 66 e tristemente assassinato a Camerino il 29 marzo del 1988. E poi sacra provocazione da Pep Marcheggiani, una mostra rivolta contro la Chiesa o i fedeli per offendere o difendere l'umanità dalla corruzione sono gli interrogativi che hanno ispirato l'artista di Pescara, Pep Marcheggiani, che ha realizzato quattro sculture di ceramica grazie anche alla collaborazione di un maestro ceramista, raffigurante una Madonna armata. L'Aquila Comune bussano mille poveri, speso un milione per gli adulti, dai disoccupati ai commercianti in crisi, attività in rovina dopo il terremoto. I contributi serviti per pagare mutui, bollette, alimenti o la tessera del bus. Il desolante quadro sociale di una città che non riesce a guarire dalle ferite dell'aprile del 2009 e della crisi economica. L'emergenza scuole colpite dal sisma, l'elenco finisce a Vasco Errani, vertice con i sindaci, Teramo reclama l'istituzione dell'ufficio territoriale. Entro il prossimo 31 dicembre, il vicecommissario alla ricostruzione dei centri colpiti dai terremoti del 24 agosto e 30 ottobre scorsi, Luciano D'Alfonso dovrà trasmettere al commissario straordinario Vasco Errani l'elenco delle scuole da ricostruire nei 21 comuni interessati. Per un esame puntuale della situazione, ieri D'Alfonso ha incontrato al palazzo dell'emiciclo i sindaci dei comuni interessati. Allora abbiamo visto, c'è stato un incontro con i sindaci del cosiddetto cratere, vediamo. Abbiamo affrontato il tema dell'edilizia scolastica che entro il 30 dicembre deve trovare nei comuni dove l'edilizia scolastica è gravemente danneggiata e non conviene per quantità e qualità riparare, allora è necessario delocalizzare. Oggi abbiamo fatto la conta, la verifica, di quanti edifici devono essere delocalizzati nei comuni colpiti dal terremoto del 2016. Dalla riunione di oggi è emerso che soltanto Teramo Città ha due edifici che devono essere delocalizzati, il resto sono edifici che devono essere riparati e risistemati con interventi puntuali. Noi abbiamo comunque verificato oggi anche il come conferire risorse umane ai comuni danneggiati e rientranti nel cratere così come aiuteremo anche i comuni danneggiati fuori cratere e abbiamo anche precisato qual è la sede principale di lavoro amministrativo che sarà Fossa. Così il presidente della regione Luciano D'Alfonso che nella sua veste di vice commissario per l'emergenza sismica del centro Italia ha incontrato oggi sindaci abruzzesi in consiglio regionale. La decisione principale è stata la delocalizzazione delle scuole materne di Villa Ripa e Via Teveri di Teramo classificate E. E' stato poi ribadito il ruolo centrale dell'ufficio speciale della ricostruzione del cratere sismico del s'aprile 2009, l'USRC, anche per la nuova governance amministrativa. Rimandato invece il nodo delicato sul dove localizzare il nuovo ufficio territoriale, un tema molto caro al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi che lo vorrebbe ovviamente nella sua città. Ritengo che la priorità sulle scuole sia giusta, che bisogna accelerare, sono perfettamente d'accordo e mi sembra che ci sono tutti i presupposti per far questo. Poi si sta parlando invece come secondo argomento dell'UTR, io ritengo insomma che, ma non perché debba appendermi una medaglietta, credo che l'UTR per il terremoto 2016 non possa che trovare sedia a Teramo, sia per le dimensioni dei danni che Teramo ha subito, ma anche perché comunque il comune è capoluogo. Su questo credo che ci dovremmo aggiornare perché ovviamente ogni sindaco la vede in maniera diversa. Aggiorniamo un po' i numeri degli sfollati? Ma noi siamo arrivati quasi, arriveremo a 1.500 già nei prossimi giorni, siamo a 1.470, continuano purtroppo le ordinanze di sgombero, i danni sono tanti, insomma stiamo affrontando la situazione di emergenza, abbiamo ancora oltre 2.500 verifiche da fare, sono tante, questo mi preoccupa un po'. Ora invece parliamo di turismo, tutta neve artificiale, la prima volta, Campo Felice Ovindoli, adesso si scia su numerose piste, viste le limitazioni, lo ski pass costa solo 20 euro al giorno, nulla da fare a Campo Imperatore dove mancano i cannoni, il centro Gran Sasso salvato dal comune con 7 milioni, il finanziamento con risorse Cipe è finalizzato al rilancio con nuove strutture. Ci spostiamo e parliamo, andiamo a Sulmone, in ricordo di Fabrizia alla nuova scuola elementare o la villa comunale, morte a Berlino, la città non vuol dimenticare la ragazza, il padre e la madre ancora chiusi nel dolore dopo il funerale. Con Turzi, Terme, il paese natale del nonno, le ha già intitolato una strada, il silenzio in regione. A Chieti, Policlinico a rischio, ritardi nel trasferimento dei riparti, slitta a gennaio, lo spostamento dell'Utich dopo i lavori di rianimazione rimane dov'è. L'azienda sanitaria ha investito un milione per avere un'emodinamica all'avanguardia. E poi la buona sanità, chirurgia oncologica, numeri da primato, ben 270 gli interventi. E' stato ricoverato a Pescara il giovane pestato al vaglio, i filmati delle telecamere del centro potrebbero aver ripreso tutta la scena. L'Oscar dei professori all'insegnante frentana, che dice merito dei ragazzi. Il ministero ha ufficializzato l'ambito di riconoscimento a Narita Di Paolo, 53 anni tra i primi, 50 docenti italiani. All'inizio pensavo uno scherzo, la mia svolta con l'arrivo nella scuola dell'ospedale. E poi ad Ortona la raccolta a porta a porta, file di ore per ricevere i kit. A Lanciano per 8 letti, 700 lenzuola, in 10 indagati per truffa e corruzione nell'operazione sul servizio di lavanderia. A Vasto si torna a parlare dell'ondata di furti, i primi indizi dai filmati. E poi sempre a Vasto gli eventi di fine anno a Palazzo d'Avalos. Sulle cronache di Teramo, sgomberate 161 famiglie, la tensione a Colle Atterrato, Capodanno Amaro per gli evacuati. I residenti annunciano esposti in procura. L'assessore fracassa, dice, la situazione alle case Atera adesso è drammatica. Il primo cittadino bruchi ieri ha incontrato Errani, ma la situazione dei danni in città peggiora sempre di più. L'amministrazione ha interessato la Guardia di Finanza perché ci sono affitti super gonfiati. E poi la sanità, la ASLE, i costi della mobilità passiva salgono a 60 milioni. Il manager Fagnano dice non possiamo mettere gli steccati con le marche, ortopedia, il nodo più grave. Di spalla l'allarme la CGL dice 35 mila anziani da assistere sul territorio. L'importo medio delle pensioni è di 675 euro al mese, il più basso della regione. Aumentate i servizi la richiesta. L'assalto notturno alla Canottieri, a Giulianova, i gnoti hanno vandalizzato la struttura in legno ubicata sull'arenile. Soprattutto hanno sfregiato la statua del Cristo posta nella nicchia. Di recente l'attività era ripresa a pieno ritmo grazie alla convenzione fissata con il circolo nautico Migliori. L'adrinazione invece in un cantiere edile caccia i malviventi sul territorio. Il caso ad Alba, lo stadio non è idoneo per la Serie D. La squadra è terza in classifica ma le ambizioni potrebbero finire nel cassetto. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città. In apertura ci sono le iniziative antiterrorismo. Si inizia da Pescara, spuntano le barriere antiterrorismo. Il vice sindaco del Vecchio dice che non abbiamo un allarme ma si tratta di misure preventive per stare più tranquilli. Già dopo l'attentato di Nizza vennero raccomandate misure rafforzate per la sicurezza durante i grandi eventi. Dopo la strage di Berlino massima allerta del Ministero dell'Interno tramite le prefetture. E poi il bilancio di Ignazio salva il numero legale per la maggioranza. Fissato per oggi a mezzanotte il termine ultimo per l'approvazione della legge. Di spalla Gianni Chiodi dice che la Regione paga due persone per svolgere lo stesso lavoro. Le due persone in cui fa riferimento l'ex governatore d'Abruzzo sono il dottor Paolo Menduni, nominato commissario straordinario dell'Agenzia regionale di informatica e committenza, con decreto del Presidente dell'Aggiunta regionale il 23 novembre scorso, e il direttore generale dello stesso ente, in carica dal 23 febbraio 2016. E poi a Teramo servono subito due nuove scuole materne, negli edifici di Via Tevere e Villa Ripa troppo danneggiati, problematica la situazione di Savini e San Giuseppe. Il governatore D'Alfonso ha riunito all'Aquila i sindaci del cratere per fare il punto sulla situazione delle scuole danneggiate. E poi Brucchi dice prima le verifiche, il polo scolastico, nuove scuole, sarà una decisione collegiale. Di taglio basso il nodo UTR frenata sulla sede dell'Ufficio per la ricostruzione, la sede principale sarà Fossa, per quella distaccata in Ballo Teramo e Montorio Alvomano. Intanto è scattato il maxisgombero di Colle Atterrato, ieri sera recapitate le prime ordinanze e dentro tre giorni 350 inquilini dell'Ater resteranno senza casa. I numeri del sisma in un giorno solo sgomberate 161 famiglie, le ordinanze toccano quota 563 e gli sfollati sono quasi 1800. Sempre Teramo, niente più dipendenti ASL sugli stalli per disabili. Striscia la notizia, torna a Casalena dopo il tapiro d'oro. Gli utenti continuano ad infischiarsene del senso civico. E poi, chiamati vigili, Staffelli lancia l'appello dopo l'accordo sulle contravvenzioni siglato tra l'ASL e il corpo della polizia municipale. Di spalle il lavoro, tu assume 30 giovani autisti per il servizio bus. Andiamo avanti. Un altro milione e mezzo di risparmi in via Milli. Sarà la regione ad accollarsi il costo dei 30 dipendenti dei centri per l'impiego della provincia. E poi un accordo, le tariffe sia e rivoluzione del calcolo per i locali. A Teramo schiera le fioriere antiterrorismo. A Capodanno e al presepe vivente faranno da barriera per proteggere la folla da eventuali attacchi con i tir come disposto dal Ministero dell'Interno. Misura di sicurezza varata dal Viminale recepita dalla Prefettura in attesa di un'apposita ordinanza da parte del Sindaco, in questo caso di Teramo. Andiamo avanti. La provincia, gli agricoltori chiedono 6 milioni di danni, cinghiali e lupi protesta davanti all'emiciclo per i problemi causati alle colture e agli allevamenti. Federcaccia chiede la modifica del calendario venatorio per consentire la cacciabilità di Beccaccia, Tordo e Cesena fino alla fine di gennaio. E poi a Bellante dei fibrillatori aspettavamo gli attestati. Il Sindaco Melchiorre risponde alla polemica di Ennio Chiavetta. Si torna a parlare del giallo di Tortoreto, le indagini ora sulla vita segreta di Di Silvestre. Gli inquirenti setacciano anche i contatti e gli ambienti sconosciuti a parenti e amici dell'artigiano. I resti carbonizzati del piastrellista di Tortoreto sono stati trovati all'interno di un casolare di Ascoli Piceno lo scorso 15 novembre. Le indagini si concentrano anche sulla ricerca di un eventuale secondo numero di telefono. Giulianova ricorda Raffaello Pagliaccetti ma si dimentica di Re Vittorio Emanuele. La statua di Piazza della Libertà tende ancora il restauro annunciato da anni. Un paradosso finanziato il recupero di un autoritratto di Pagliaccetti che ha realizzato proprio l'opera della piazza. E poi, sempre a Giulianova un caso, il gattaro misterioso porta via Felini e Randaggi al cimitero di Giulianova. Di taglio basso i rifiuti in distribuzione i nuovi calendari per la differenziata. L'eco sportello in municipio, nella sede dei vigili e in quella di Giulianova patrimonio. Di spalla un cane resta accanto al padrone colto da infarto sulla salita di Montegrappa. E poi l'intervista abbiamo già cambiato volto a Roseto. Sabatino di Girolamo fa il bilancio dei primi sei mesi da sindaco. Ora la città è pulita e ordinata. Il sindaco sta lavorando per far arrivare nuovi investitori che porteranno alla creazione di nuovi posti di lavoro per i rosetani. pronta ad incontrare tutte le associazioni per presentare un'offerta turistica senza precedenti. Questo è stato l'annuncio. Ad Atri, l'arco di San Francesco, trasformato in una latrina pubblica. Uno degli scorci più suggestivi della città ducale, riempito di scritte e utilizzato dagli incivili come se fosse un bagno. A Montepagano tutti vogliono i fondi della Funivia Terramana. Oltre a Silvi, anche Roseto avanza la sua candidatura per l'impianto dopo lo stoppo del capoluogo. Portare i turisti a Montepagano significa rivitalizzare il borgo storico sia dal punto di vista commerciale che immobiliare. La proposta Nunges e Marcone vogliono collegare il Lido con il borgo storico di Montepagano. E poi non solo Roseto, perché anche Silvi da diverso tempo sta chiedendo di realizzare una Funivia con i fondi che erano invece destinati alla realizzazione di quella di Terragomo per il collegamento con l'università. E poi Roseto, patinaggio e rocca all'arena Quattropalme. Vanno avanti le manifestazioni natalizi organizzate dal comune. La cultura, un moderno telemaco in Piazza Duomo, sui ponteggi della ricostruzione aquilana posizionata all'opera del terramano Giampiero Marcocci. La pagina dello sport, la speranza, il peggior anno da quando sono qui. Il capitano Biancorosso a pochi giorni da Bassano abbiamo iniziato male il gol di venerdì. Siamo stati dei polli. Da quando è tornato il mister abbiamo messo in campo sempre ottime prestazioni. Peccato che non sono state accompagnate dai risultati, ma sono sicuro che ne usciremo presto. Ci spostiamo sulle pagine del centro, proprio per aprire la pagina dello sport con la Serie A, il calcio a mercato del Pescara. Si stringe per l'Edesma, su Bovo c'è il Palermo e poi il regista argentino al posto di Aquilani, destinato al Sassuolo. L'ex laziale sta rescindendo il contratto col Panatinaikos. Potrebbe arrivare l'ex lancianese Tiam al posto di Muric, destinato a fare le valigie. Interferenze e rosa nero sul difensore del Torino, che è uno dei primi obiettivi di Oddo. In partenza uno tra Zuparic e Coda, su Bruno c'è il Benevento dell'ex Baroni. Il personaggio, Stendardo, il difensore con la passione per la toga. Il rinforzo per la retroguardia è un avvocato con il pallino del giornalismo. Bergamo, la seconda casa, è fidanzato con la figlia del patron per Cassi. E poi Maldive e Londra, le vacanze dei bianco-azzurri. Zampano a New York, Verre a Roma e Baibec a Parigi. Giovedì si torna a sudare al poggio degli olivi. Nicolai, la stella d'argento del 2016, quasi un plebiscito per il 28enne ortonese. Prima medaglia olimpica del beach volley azzurro. Lo sportivo abruzzese dell'anno, secondo il centro, è stato eletto proprio l'ortonese. E poi nella classifica degli atleti, al primo posto, come detto, c'è Nicolai. A seguire Francesco Di Fulvio della Palla a Nuoto. Terzo a pari merito c'è Andrea Iannone e la Pescara a calcio. Al quarto posto il calcio femminile del Chieti. E al quinto ci sono Marco Verratti, Martina Labarbera, Farma più Città Sant'Angelo Palla a Mano, Riccardo Lister della Vela, Marco Riccioni del rugby, Deborah Sbei pattinaggio, Pescara a calcio a 5 e il Monte Silvano a calcio a 5. La Liga Pro, il Teramo, troppi gol al passivo, Speranza amareggiato, siamo dei poli. Il capitano dice ci manca l'attenzione sui calci da fermo. I biancorossi su Benzai, Jefferson verso il divorzio. Vediamo la pagina dello sport, anche sul messaggero Pescara, si complica per Mandragora. L'ex centrocampista di proprietà della Juventus è pronto dopo l'infortunio, ma sembra essere destinato all'Atalanta. Nel mirino Ledesma, in uscita dal Panatinaikos e Buckel in Grecia, si parla anche dell'interessamento per la punta Tiam. Il DS Leone in Polonia ha visitato anche il terzino Beresinski, classe 92. E poi di spalla la squadra Zampano e Verre sono gli uomini del mercato. Sulla Lega Pro il Teramo via Jefferson rinforzi per la salvezza. Il patron Campitelli spazia a tutto campo. Troppi infortuni, non ci si può contare. I troppi soldi hanno fatto male alla squadra. Possibile interessamento nei confronti del DS Federico, ma dopo la fine del campionato. E allora con lo sport noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci, ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione quella delle 14 e invece la rassegna stampa di mattino 6 torna domani puntuale alle 7. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.